La Basilicata deve provare a salvaguardare l'unità regionale respingendo la soppressione di una delle province lucane. A dichiararlo il Presidente della Regione, Vito De Filippo, il quale ha invitato il Consiglio regionale ad approvare il documento sul riordino delle province già passato alla Commissione competente. Il varo del documento sollecitato dal Presidente De Filippo tende a ristabilire l'equilibrio territoriale assegnando la provincia di Lucania a Matera ed istituendo invece a potenza i collegati uffici periferici dello Stato. Anche con l'attuale governo in carica affermato De Filippo, continua l'attacco concentrico sulle province individuate come luogo da cui tagliare la spesa ritenuta improduttiva. Noi siamo per l'unità regionale che dia importanza alla governance di tutti i territori, che ha visto avvicinare le posizioni del governo su segnalazione delle forze sociali. In questa circostanza, ha concluso il Governatore, sono fondamentali gli appelli fatti dalle regioni ai parlamentari per portare a termine positivamente questa battaglia sul riordino delle province.